scoperta diciassettenne dal regista Raffaello Matarazzo, che la fa debutare nel cinema, nel film Chi è senza peccato, del 1952, inizia la sua breve carriera nel mondo della celluloide, e si rivelerà attrice sensibile nella parte di una delle studentesse in terza liceo, diretta da Luciano Emmer. I successivi lavori però non confermano questa tendenza e la Sandri deciderà di abbandonare il mondo del cinema nel 1956, dopo solo quattro anni di attività.